Benvenuti in una nuova edizione straordinaria del Toggi Strutt, ecco le notizie del giorno. Purtroppo le curve in Italia, come possiamo vedere, sono in continuo aumento. Ad oggi l'80% della popolazione italiana sta inesorabilmente lievitando. Gli esperti dicono di mantenere la calma, siamo tutti in preda al pane. Pensate che anche il trend è diventato 40 e nel frattempo, in attesa del vaccino, molti si sono buttati sul latte vegetale. Ci vuole ancora un po' di pancetta, ma... ho detto pancetta, però... rifacciamo. Ci vuole ancora un po' di pazienza, ma ce la faremo. Il motto è sempre lo stesso. Stiamo lontani oggi, rimaniamo a casa oggi, per abbracciarci domani. Probabilmente. Vi terremo aggiornati nelle prossime edizioni del Toggi Strutt, un TG pesante. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.